ciao a tutti ragazzi siamo tornati in un nuovo video oggi ragazzi siamo tornati con il post partita di verona juventus una partita che ci ha regalato grandissime emozioni con la vittoria di nuovo per 3 a 0 della juventus come è successo nella prima giornata contro il como anche oggi siamo riusciti a vincere per 3 a 0 convincendo e tanto con la prestazione che abbiamo fatto con la doppietta di dusen blavich gol di savona la vera sorpresa di questa giornata e quindi ancora una volta siamo riusciti a portarci a casa i tre punti per la seconda volta consecutiva e soprattutto ci siamo messi davanti a tutti in primi classifica con sei punti su sei sei gol fatti e zero subiti quindi stiamo viaggiando veramente a ritmo elevatissimo siamo solo all'inizio solo ai primi chilometri se si vuole fare un paragone col ciclismo di questa lunga lunga campionato è come essere soltanto la seconda tappa di un grande giro però intanto abbiamo già dimostrato che noi ci siamo e lottiamo per lo scudetto e sembra che le rivali più accreditati siano l'inter e basta perché vedo un altro avversario in grado io adesso devo fare un pronostico sarà juve e inter lo sconto per lo scudetto come era stato l'anno scorso che poi la juve poi non è riuscita arrivare secondo perché è andata completamente in crisi però sicuramente quest'anno la sfida sarà sempre quella con la juventus che però credo credo che possa avere qualcosa in più rispetto all'anno scorso e possa tenere la vetta intanto non siamo di inseguire ma siamo noi che facciamo inseguire l'inter la nostra grande rivale e quindi andando subito a guardare le statistiche di questa meravigliosa partita giocavamo in casa dell'ella su una squadra che veniva da un 3 a 0 contro il napoli che aveva veramente messo preoccupazioni in vista di questa partita perché nonostante si era capito che il napoli aveva fatto una brutta partita poi col bologna abbiamo vinto 3 a 0 e quindi dicevamo beh avrà fatto male il napoli però il verone non è così scarso in effetti primi 20 minuti si è visto il verone come andava a cercare i contropiede come era bella solida poi il gol di vlavic al 28 ha sbloccato tutto e da lì abbiamo messo una partita in discesa libera e quindi il gol di duzan vlavic al 28esimo e poi il gol di nicola savona al 39esimo che era un mezzo gol di vlavic quasi perché l'ha sfiorata con la testa gol attribuito giustamente meritatamente nicola savona e al 53esimo su rigore di duzan vlavic mette firma la rete del 3 a 0 tiri totali 7 verona 8 juve quindi più o meno si è lì ma quello che è stato decisivo è di nuovo il cinismo della juventus con 5 tiri in porta su 8 metri verona soltanto un tiro in porta e quindi di ricordo subisci il suo primo tiro in porta e si dimostra pronto perché riesce a parare bene il tiro con i piedi una parata che sembra facile ma da un metro tutto è difficile anche se ti arriva l'osso perché devi avere comunque la reattività di non muoverti e fare danni possesso palla 61 39 juve quindi ancora una volta dimostriamo che possesso palla è una delle chiavi della juventus tiago motta passaggi doppi 387 verona 618 alle juve precisione 85 per cento verona e 88 per cento le juve se ne guarda i dati dell'anno scorso precisione dei passaggi era sotto gli 80 per cento quest'anno siamo lì a 4 88 per cento 90 per cento quindi molto bene quindi queste sono le statistiche dettagliate e andiamo ora alle pagelle quelle più attese stavolta non dobbiamo dimenticarci anche tiago motta e quindi per quello per non dimenticare tiago motta cominciamo subito da tiago motta con un voto ancora una volta alto 8 come l'avevo dato nella prima partita perché fa selte comunque sempre sorprendenti come mette da primo minuto savona un giovane anche lui della next gen e riconfermare di nuovo bangula ma quello riesce sicuramente bene a tiago motta perché fanno tutti e due molto bene bangula non come la prima prestazione ma era difficile replicare quella prima prestazione poi adesso già vedete tra un po vedrete i voti dei giocatori bangula che non ha un voto altissimo ma neanche male ha fatto una sua partita mentre invece savona ha fatto una grandissima partita non solo il gol ma anche altre giocate importanti di nicolò savona in fase difensiva soprattutto quindi molto molto bene e poi tiago motta è riuscito a dare veramente a questa squadra grande entusiasmo e grande gioco e sta facendo molto bene quando la squadra dice tra zero non puoi che non dargli quel voto all'allenatore un bel lotto e adesso andando invece a guardare i giocatori di movimento i voti cominciamo da di gregorio di gregorio c'è in mezzo mezzo voto in più rispetto alla scorsa volta perché perché comunque gli è arrivato un tiro in porta rispetto alla scorsa quindi un tiro l'ha subito e se l'ha cavato molto bene come diceva prima quindi mezzo voto più per quello per il resto normale amministrazione e quindi c'è in mezzo andiamo ai difensori con cabal 7 ha fatto alcuni errori di passaggio per per la tanta vuole di dimostrare però un giocatore molto molto forte un giocatore che mi ricorda molto alexandra nei tempi che quando subito i primi due tre anni che arrivò dal porta nei suoi anni migliori grande grande terzino che spinge tutta fase può esserci veramente una grande chiave anche in chiave di champions perché secondo me cabal in champions potrà fare delle belle partite a proposito di champions league noi giocheremo giocheremo noi avremo i sorteggi proprio giovedì dopo domani quindi state pronti che ci sarà un video sulla reazione sul mio commento su quello che sarà successo speriamo bene bremer 8 perché 8 è vero che il vero non ha concesso tanto ma bremer ha fatto una partita strepitosa perché non si vede quindi dice vabbè ha fatto una bella partita lì dai 7 no 8 perché in ogni tiro che il vero non provava a fare bremer era come una serratura come un muro un cancello non passava niente era lì e si imponeva davanti a loro respingendo ogni prova di tiro del vero bremer 8 grande partita del brasiliano gatti 7 grande grinta capitano vice capitano danilo che sta diventando sempre di più capitano perché veniva stato alle prime due giornate gatti è stato il nostro capitano e lo fa con grande grinta grande orgoglio in grande passione gatti 7 anche lui molto molto solido savonotto gol molto bello molto importante ma soprattutto grande percezione anche in fase difensiva non ha concesso niente alasovic che veramente si è visto poche poche volte pallone rispetto magari dall'altra fase a cabal che ha un po più sofferto l'esterno del verone savona 8 andando al centrocampo fagioli 6 e locatelli 7 da grande sostenitore di fagioli come sapete il mio giocatore preferito al momento non solo delle juventus ma tra tutti ovviamente il mio giocatore preferito e i miei giocatori preferiti sono sempre stati delle juventus quando sono alle juve io il mio giocatore preferito dipende se è la juve perché essendo tifoso della juventus non riesco a essere il mio giocatore preferito un altro della juve quindi se un mio giocatore il mio idolo va via dalla juve devo trovare un altro della juve buffon ha fatto bene perché è sempre rimasto l'iove sempre stato il mio idolo finché non si è ritirato vabbè gli altri due anni al parma poi vabbè le serie b così come chiellini altri giocatori come dibala anche che ora purtroppo è andato alla roma quindi non è più un giocatore preferito però adesso e fagioli e nonostante questo devo ammettere che nella partita di ieri non ha fatto poco benissimo la sufficienza la prende però ho sbagliato alcune giocate da troppo che ci sta magari una partita storta dispiace perché ti amo molto l'aveva dato l'opportunità di giocare titolare io da sempre avevo detto che avrei messo quest'anno fagioli a posto di locatelli titolare ma locatelli sta sopprendendo perché fa un'altra grandissima percezione io l'avevo detto sono pronto a essere sbruzzardato ti amo molto e locatelli fare belle percezione perché io credo che veramente locatelli abbia un grande cuore bianconero orgoglio per la maglia e che ben venga che possa migliorare e locatelli lo sta facendo molto bene 7 continua così locale andando davanti indice 6 e mezzo non chissà che ma una buona percezione mangula 6 e mezzo anche lui stesso discorso di indice cambiato 6 e mezzo quei tre giocatori sono stati tutti e tre buona partita non eccezionale ma buona 6 e mezzo e Duzian Vlaovic 7 e mezzo perché fa doppietta con il suo rigore con la sua situazione e riesce a creare grandi occasioni finalmente Duzian sta diventando un attaccante molto forte l'importante però è che continui così perché l'abbiamo visto tante volte anche l'anno scorso in questa condizione per una o due partite poi si perdeva speriamo di verlo così con continuità e con costanza perché potrebbe veramente diventare quel Duzian Vlaovic che noi abbiamo sempre voluto quelli che sono entrati Calulo e Douglas Lewis che sono entrati per primi 6 e mezzo Duzian Lewis che anche lui fa una buona partita non ha tanto tempo per mettersi in mostra però buona partita di grande qualità di grande talento si vengono le sue giocate Calulo 7 perché è vero gioca poco ma l'ho visto fare quella transizione davanti quella sovrapposizione in false che lo stava quasi portando a concludere in porte e l'ho visto veramente molto reattivo 7 può essere un grande giocatore che anche lui ci può dare una gran mano e poi Anghele, Rui, Danilo che sono entrati verso la fine 6 un degno di notte Danilo il nostro capitano Danilone che finalmente torna in campo a giocare con la sua solita grinta, voglia, fame di vittoria e quindi Danilone speriamo possa riprendersi da questo infortunio che gli ha un po' condizionato queste prime due partite e possa tornare anche lui in campo perché anche il nostro capitano ci serve e quindi ragazzi queste erano le pagelle e il post partita di questa magnifica seconda giornata che ora ci vede proiettati a domenica sera perché siamo già lì con la testa è vero prima c'è il sorteggio di Champions ma i nostri giocatori devono essere già concentrati domenica sera noi tifosi possiamo essere concentrati giovedì sera perché è un evento che è sempre molto suggestivo i sorteggi di Champions, il pathos, la tensione, chi si rispira in quei sorteggi ma la Juventus sicuramente non tengo molta, la società, i giocatori sono già focus a domenica sera chiaramente guardano i sorteggi, faranno un commento ma da venerdì mattina poi saranno già lì pronti a pensare alla partita contro Roma che ci deve proiettare sempre più in alto e quindi ragazzi noi ci vediamo con un altro video sicuramente i primi di domenica non c'erano altri video sul calciomercato perché la notizia di oggi è questa tem con Mainers è arrivato la Juventus e quindi non c'è tanto da dire abbiamo già parlato tanto di con Mainers e sarà un altro giocatore fantastico e quindi parleremo anche magari di mercato se ci sarà un altro colpo ma già così è un campionato da 9 un calciomercato da 9 e quindi sicuramente poi ci vedremo in altri video e quindi ragazzi ci vediamo in un nuovo video e sempre Forza Juventus a tutti ragazzi sempre Forza Juventus a tutti ragazzi